Cari colleghi, cari colleghi componenti del cinquantesimo congresso nazionale SNA, buongiorno. Ringrazio a nome mio personale, dell'esecutivo nazionale uscente e di tutti gli agenti di assicurazione che qui rappresentiamo, i colleghi intervenuti di persona e coloro che assistono ai lavori attraverso la diretta per la partecipazione a questa assise che costituisce l'assemblea più importante e vitale attraverso la quale si esprime la volontà della categoria e si delibera la politica generale della maggiore, per certi versi unica, associazione di rappresentanza degli agenti italiani. Ringrazio anche tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito all'organizzazione di questo evento e il personale dipendente SNA che quotidianamente garantisce la gestione della nostra storica e complessa macchina sindacale. Una particolare menzione merita certamente il nostro direttore Andrea Bonfanti, chiamato alla gravosa responsabilità di dover conciliare il livello del servizio e l'efficacia delle procedure con l'esigenza di conservare una buona qualità delle relazioni umane nell'ambiente di lavoro. L'opera svolta dal mio infaticabile vicepresidente vicario Elena Dragoni, se lo merita, sul fronte della riorganizzazione interna è stata poderosa e ciò a volte ha messo a dura prova la tenuta di queste preziose relazioni umane. Tuttavia l'obiettivo irrinunciabile di raddrizzare i conti del sindacato, anche agendo sulle inefficienze e la necessità di ammodernare compiti e procedure con lo scopo di riuscire a disporre in tempi brevi di un'organizzazione all'altezza delle migliori aspettative degli iscritti, hanno indotto l'esecutivo nazionale a richiedere ad Elena Dragoni e al direttore Andrea Bonfanti ulteriori sforzi su questo fronte, sforzi che hanno portato a buoni risultati. Grazie Elena, sei andata ben oltre l'impegno che mi sarei aspettato da un volontario, benché vicepresidente Vicario. Il lavoro però non è terminato, la squadra dirigente che domani riceverà la fiducia del congresso dovrà proseguire lungo questa strada e chiedere allo staff di Via Lanzone nuovi sacrifici per consolidare i risultati ottenuti e migliorarli ulteriormente. Ringrazio il dottor Domenico Fumagalli, stimato ex direttore del sindacato. Oggi nostro consulente per la preziosa opera di assistenza prestata e per l'attaccamento a SNA che ancora, dopo tanti anni, dimostra quotidianamente di possedere. Ringrazio tutti i componenti degli organi statutari e dei gruppi di lavoro per la generosa e preziosa collaborazione, nonché i membri dell'esecutivo nazionale uscente che mi hanno accompagnato, supportato e sostenuto in questi tre anni. Ringrazio infine le numerose autorità e personalità politiche e istituzionali che con la loro presenza qui oggi, con i messaggi di saluto e con gli attestati di vicinanza che ci hanno fatto pervenire, dimostrano quanto il nostro grande sindacato sia tenuto in considerazione, quale valido interlocutore e soggetto credibile, in grado di contribuire a quella sintesi politica degli interessi particolari nell'interesse generale che sola garantisce il buon funzionamento di ogni democrazia. Rappresentiamo gli interessi degli agenti, non li confondiamo con quelli delle imprese e in questo senso siamo sicuramente partigiani, ma comprendiamo perfettamente che i nostri interessi sono meglio tutelati e tutelabili quando coincidono con quelli dei nostri clienti ed è per questo che abbiamo dato prova di saper conciliare le esigenze della categoria con quelle dei consumatori, con una strategia di ampio respiro che ponga le basi per un corretto funzionamento della concorrenza in un libero mercato basato sulla professionalità degli intermediari e sul conseguente miglior servizio riservato agli utenti delle assicurazioni. In questa ottica la buona politica ci è vicina e il quarto principio considerato dalla direttiva UE 2016-97 del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, la IDD, assume per noi un valore significativo testualmente. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione, dichiarato nella direttiva europea. Non sposiamo le tesi delle imprese quando sono contrarie agli interessi dei nostri clienti e conseguentemente danneggiano o rischiano di danneggiare il rapporto di fiducia tra noi e i nostri clienti, così come non ci alleiamo con esse nel perseguire la nostra marginalizzazione attraverso strategie che hanno l'obiettivo di indirizzare il mercato verso la disintermediazione. Siamo partigiani dunque, seppure con giudizio, in quanto tali siamo incompatibili con coloro che fingono di impegnarsi al nostro fianco mentre sposano la causa dei nostri nemici. Dispiace, certo, parlare di incompatibilità e di nemici, tanto più in un'epoca nella quale esistono già tante e tali divisioni tra gli esseri umani, tra razze, ceti sociali, tra classi economiche e religiose da rendere difficili la pace e il dialogo anche solo in un'assemblea condominiale. Ma non è fingendo che il nemico non esista che si vincono le battaglie o si evitano le guerre. Difidiamo dunque di chi tenta spesso di far apparire un'unità di intenti tra parti contrapposte che non c'è e cerca di ottenere il risultato di far abbassare la guardia alla categoria, indebolendone la convinzione, l'impeto della prima linea, facilitando l'assalto del nemico e la perdita delle posizioni. Le compagnie facciano le compagnie, gli agenti facciano gli agenti. A volte possiamo avere obiettivi comuni, abbiamo spesso interessi contrapposti. Non riconoscere questo significa nascondere la testa sotto la sabbia, comportamento questo che non garantisce affatto una via d'uscita migliore in caso di aggressione. Abbiamo tutti potuto constatare su quale binario morto sia finita l'esperienza ANAPA, nata con un approccio ed uno spirito volto a fare sistema, nell'ambito del quale considerare tutti gli attori dei veri e propri business partners, compagnie, intermediari, clienti, con il primario intento di diffondere la cultura della materia assicurativa in Italia, tratto dal sito ufficiale di ANAPA. Accogliamo con soddisfazione la notizia che alcuni notti colleghi fondatori di questa associazione minoritaria ne hanno finalmente preso le distanze anche pubblicamente. alcuni di loro sono rientrati in SNA, altri lo faranno prossimamente, contribuendo così a realizzare quell'unità della categoria che secondo chi vi scrive, chi vi parla, continua a poter essere realizzata esclusivamente attraverso il rientro in SNA di chi ne è fuoriuscito. Per il bene del nostro grande sindacato e nell'interesse di tutti gli agenti, chi vi parla continua a non essere disponibile ad alcuna compravendita di marchi e vessilli, a fingere alcuna convergenza parallela in cambio di riconoscimenti solenni di cui vanno alla ricerca soltanto coloro che non hanno nulla di concreto da lasciare in dote quando si avvicinano al termine del loro mandato di rappresentanza. Gli errori macroscopici commessi secondo noi da ANAPA su tutti i fronti caldi per la categoria, come il Fonage, il contratto collettivo nazionale di lavoro, il rinnovo ANA che ANAPA dava per imminente all'indomani della costituzione di questa nuova realtà associativa avvenuta il 30 novembre 2012, 5 anni fa. Hanno indotto anche i vertici di alcuni importanti gruppi aziendali agenti a ripensare l'opportunità di mantenere l'adesione al sodalizio di Vincenzo Cirasola. Non fa mai piacere quando le persone si allontanano dall'associazionismo, a qualsiasi livello, ma se l'adesione dei gruppi aziendali ad ANAPA fornisce a quest'ultima l'occasione per millantare anche in sede istituzionale percentuali di rappresentatività che non hanno alcun senso concreto, non possiamo che condividere la scelta di quei presidenti di gruppo che ne hanno preso le distanze. Il tema è già stato oggetto di confronto durante lo scorso congresso nazionale di Bari e l'opinione prevalente, rappresentata anche attraverso diversi interventi di colleghi delegati, è stata quella di inserire a finché i gruppi aziendali aderenti al sindacato evitino la doppia iscrizione, evitino cioè di versare contributi associativi ad ANAPA. Consultando la relazione al congresso di Bari potrete constatare come sui documenti ufficiali di ANAPA all'epoca risultassero elencati i seguenti gruppi aziendali agenti facenti parte del coordinamento gruppi aziendali agenti di ANAPA, così è scritto. E vedete l'elenco. Purtroppo nonostante le dichiarazioni a caldo di alcuni e i successivi interventi di altri ai quali ho assistito personalmente, tutt'oggi il sito ufficiale ANAPA riporta lo stesso elenco con i medesimi nominativi. Se questo congresso nazionale ribadirà l'invito ai GA che aderiscono a pieno titolo nel sindacato ad ottenere la cancellazione dall'elenco in parola, sarà opportuno sottoporre nuovamente la questione al comitato dei gruppi aziendali che grazie alla ritrovata autorevolezza e al particolare dinamismo dimostrato sotto la presidenza di Dario Piana e la vicepresidenza di Salvatore Palma saprà certamente adottare le iniziative utili allo scopo. È chiaro tuttavia come sia oltremodo necessario ristabilire uno spirito di appartenenza e un'unità di intenti politico sindacale tra il sindacato nella sua massima espressione, cioè congresso, presidenza ed esecutivo nazionale e il comitato GA che dovrebbe riuscire a vincolare attraverso la condivisione leale e trasparente i singoli gruppi aziendali alla superiore volontà congressuale della categoria. Da Presidente nazionale uscente sono fiducioso che nel prossimo futuro si sapranno adottare quei piccoli accorgimenti, se necessario anche statutari per fare in modo che la condivisione tra linea politica votata dal congresso e comitato GA almeno sui grandi temi di fondo sia garantita. Se sarò io a guidare il nostro sindacato anche per il prossimo triennio mi metterò subito al lavoro e attraverso il confronto con i vertici del comitato dei gruppi aziendali agenti cercherò di individuare adeguate, concrete proposte da sottoporre agli organi statutari. Il mercato assicurativo, ancora una volta, delude le attese dal punto di vista della raccolta, confermando le previsioni del sindacato che ho avuto modo di esporvi negli ultimi anni. Ancora una volta, non delude invece dal punto di vista degli utili delle imprese. Nel 2016 la raccolta complessiva dei premi delle imprese di assicurazione nazionali e delle rappresentanze per l'Italia di imprese extraeuropee si è fermata a circa 134 miliardi di euro, con un calo, in termini omogenei, dell'8,8% rispetto all'anno prima. A questa diminuzione ha contribuito la contrazione sia dei premi del settore vita, meno 11%, sia dei premi del settore danni, meno 1%. L'incidenza dei premi totali vita e danni sul PIL è pertanto diminuita, passando dall'8,9% all'8%. Nel 2016 la raccolta premi nei rami vita è stata pari a 102 miliardi, in diminuzione, come detto, dell'11% rispetto al 2015. Si tratta della prima contrazione dei premi dopo tre anni di continua crescita. La raccolta premi nei rami danni è stata pari a 32 miliardi circa, in calo dell'1% rispetto al 2015. La dinamica è il risultato di una diminuzione nel settore auto, i cui premi hanno registrato una flessione del 3,8%, il meno 5,6% nell'RC auto e un aumento negli altri rami danni, i cui premi sono cresciuti del 2%. Si tratta, per il ramo RCA, della quinta variazione negativa consecutiva, dal 2011 al 2016, i premi sono diminuiti di circa il 25% e il volume premi del 2016, 13 miliardi e mezzo circa, è tornato ai livelli della fine degli anni 90. Nel 99 la raccolta premi era infatti pari a circa 13 miliardi di Euro. Le compagnie appaiono incapaci di reagire alla costante perdita di fatturato con politiche di offerta, incapaci cioè di intercettare la nuova domanda di assicurazioni che il mercato indirizza in vano verso l'industria del settore attraverso gli intermediari professionali. La continua ricerca della competizione volutamente focalizzata dalle imprese unicamente sul prezzo, come avviene nella RC auto in mancanza di nuove forme di copertura e di garanzie innovative da offrire alla clientela, così come il tentativo reiterato da parte delle imprese di adottare una semplificazione spinta dei processi di acquisto della polizza da parte del cliente, anche attraverso una standardizzazione estrema e un impoverimento dei contenuti contrattuali vanno in tutt'altra direzione. Il risultato di simili strategie non può che essere un impoverimento dell'offerta, un aumento del disinteresse della clientela verso i prodotti iper standardizzati messi a catalogo, un calo del fatturato, cioè del portafoglio e una generale diffusa insoddisfazione della rete agenziale che incontra la nuova domanda nel rapporto quotidiano con il cliente ma non dispone dei prodotti adeguati per la sua soddisfazione. Al momento gli unici strumenti a disposizione degli agenti per cercare di soddisfare al meglio le aspettative dei loro clienti con prodotti adeguati sono il plurimandato e le libere collaborazioni, entrambi frutto della visione a lungo termine del nostro sindacato della sua capacità di comprendere e interpretare con sufficiente anticipo i bisogni della categoria. Dal canto loro le compagnie leader hanno incrementato i loro già ottimi risultati economici e con esse la gran parte delle imprese assicuratrici operanti nel nostro paese. Alcuni esempi. Generali ha chiuso il 2016 con un utile di oltre 2 miliardi di euro in crescita del 2,5% rispetto al 2015 secondo una nota della compagnia. Tra l'altro secondo la compagnia il ROE operativo, principale indicatore di redditività, si è attestato al 13,5% confermando per il terzo anno consecutivo il raggiungimento dell'obiettivo strategico del 13%. Unipol SAI archivia il 2016 con un utile consolidato di 527 milioni di euro che si confronta con i 738 milioni del 2015. Allianz ha registrato un utile di 6,9 miliardi di euro in crescita del 4% rispetto ai 6,6 miliardi dell'anno precedente. AXA ha realizzato un utile di 5,8 miliardi di euro con un incremento del 3,9% sull'anno precedente. Si pensi che l'utile medio annuo del settore negli ultimi 8 anni è stato pari a 2,5 miliardi di euro. L'utile medio del settore negli ultimi 5 anni è stato pari a 3,8 miliardi di euro. Negli 8 anni precedenti a quella appena considerati, cioè dal 2000 al 2007, il risultato netto del settore assicurativo è sempre stato positivo. L'industria delle assicurazioni in Italia, in detto periodo, ha realizzato un risultato netto medio annuo di 4,2 miliardi di euro. Negli ultimi 16 anni, cioè dal 2000 al 2015, le assicurazioni in Italia hanno registrato profitti netti per complessivi 54 miliardi di euro, fonti ANIA. Non mi stancherò mai di ripetere, come in una fase ormai lunga, 16 anni, di contrazione della raccolta premi e di contemporanea ascesa degli utili delle imprese, il primo provvedimento da adottare per un recupero immediato della redditività delle nostre agenzie non possa che essere l'aumento delle tabelle provvigionali. La contrattazione aziendale di secondo livello ha ormai mostrato tutti i limiti dei cosiddetti sistemi variabili, incentivanti, premianti, nel garantire agli agenti la sufficiente serenità e stabilità anche sul piano prettamente economico. La presa d'atto di questa urgenza e il conseguente impegno a porre come centrale la questione della revisione dei minimi provvigionali da parte dei gruppi aziendali agenti è divenuta realtà con la decisione assunta all'unanimità qualche mese fa dal Comitato dei GA. Si tratta di un obiettivo condiviso, proposto con forza dall'esecutivo nazionale uscente in occasione dell'ultimo congresso. Si tratta ora di passare dalle parole ai fatti. Per quanto riguarda il presidio di quegli strumenti operativi, plurimandato e libere collaborazioni, che ci permettono di sopravvivere, a volte persino di crescere nonostante i reiterati tentativi di disintermediarci e l'inevitabile perdita di portafoglio che subiamo a causa di politiche sbagliate di alcune grandi compagnie, l'esecutivo nazionale uscente ha agito con la dovuta determinazione in ogni sede istituzionale. Qualche mese fa ho consegnato personalmente, insieme ai colleghi Roberto Soldati ed Elena Dragoni, un nuovo dossier all'Antitrust contenente troppi casi di provvedimenti coercitivi e ritorsivi delle rispettive mandanti nei confronti di colleghi che non si sono piegati ad illegittimi obblighi di fedeltà forzata di esclusiva di fatto. Copia di questo fascicolo dovrebbe essere stato inserito nella cartellina ai congressisti. Non è più accettabile che a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge Bersani, che vieta espressamente le clausole di esclusiva tra imprese e agenti, talune compagnie limitino la libertà negoziale e l'autonomia professionale degli agenti ponendo ostacoli e attuando vere e proprie ritorsioni nei confronti di coloro che allo scopo di servire al meglio la propria clientela, sottoscrivano ulteriori mandati agenziali o instaurino forme di libera collaborazione con altri intermediari. Dobbiamo avere il coraggio di pretendere rispetto per le nostre scelte professionali, denunciando prontamente al sindacato ogni vessazione e ogni atteggiamento intimidatorio. Questo congresso può riconoscere quale prioritaria la difesa della libertà organizzativa, commerciale e gestionale degli agenti. Può deliberare, condividendo senza eccezioni, questo passaggio della mia relazione, che la politica generale del sindacato debba, anche in futuro, garantire con ogni mezzo tale libertà, considerandola non negoziabile in qualunque sede. La condividete o no? Se voi condividete questa dichiarazione di principio la lasciamo in dote a chiunque verrà dopo di noi. Posso, Presidente, far prendere atto che condiviso il passaggio? Grazie, grazie. Comunque lo lasciamo in dote a chi verrà dopo di noi. Il sindacato è stato al fianco e dovrà continuare ad essere al fianco di quegli agenti che vengono avvicinati dalla mandante e sottoposti a pressioni per indurli a sottoscrivere lettere di dimissioni solo perché il portafoglio agenziale risulta inferiore alla soglia di equilibrio. Equilibrio di chi? Abbiamo contrastato e dovremo continuare a contrastare con forza la miope politica commerciale di rampanti dirigenti che sopprimono, a volte per email, rapporti agenziali pluridecennali e gettano nello sconforto intere famiglie, magari a pochi anni dalla pensione, senza alcuna ragionevole fondata motivazione. Dobbiamo esserci con questi colleghi. in questi ed analoghi casi dobbiamo schierarci sempre e solo a fianco dei colleghi, senza se e senza ma. Non sono ammessi tentennamenti da parte di nessuno. Qualche mese fa abbiamo sottoposto alle autorità del settore anche un dossier riportante le numerose clausole vessatorie contenute nei nostri mandati agenziali. Molte di queste clausole gridano vendetta nel nome del patto di lealtà, correttezza e buona fede che dovrebbe costituire parte integrante del contratto di agenzia che le imprese predispongono unilateralmente e ci sottopongono con il metodo coercitivo del prendere o lasciare. Poiché sul piano della contrattazione aziendale, nonostante il massimo sforzo, gli agenti non sono riusciti a ottenere sufficienti risultati su questo fronte e individualmente è impensabile che un singolo agente sia nelle condizioni di poter rinegoziare con l'impresa dette clausole vessatorie, sappiate che chi vi parla, coerentemente con quanto condiviso in esecutivo nazionale, ha chiesto specifici interventi normativi o potestativi con l'obiettivo di vedere finalmente proclamata la nullità di tali pattuizioni. E non alludo solamente a quelle clausole ancora presenti in molti mandati agenziali e alle circolari di alcune imprese che diramano disposizioni in contrasto con lo spirito del noto provvedimento antitrust che grazie ai ripetuti esposti SNA ha liberato, speriamo per sempre, questa categoria dagli antistorici patti di fidelizzazione, dagli insopportabili limiti di utilizzo delle tecnologie agenziali, dall'opprimente patto trilatero e da altri lacci e lacciuoli che per decenni ci hanno impedito di organizzare le nostre micro imprese secondo le nostre necessità. Fate in modo che non solo il gruppo dirigente uscente, ma anche il Presidente e l'esecutivo nazionale subentrante siano vincolati su questo terreno di scontro a non concedere sconti a nessuno. La stabilità delle nostre agenzie ed una seppure minima serenità per il nostro futuro passano necessariamente per la difesa ad oltranza della nostra autonomia. Questa Presidenza e l'esecutivo nazionale uscente sono convinti della necessità per gli agenti di prendere le distanze senza esitazione da chi cerca, attraverso subdo le strategie, innovativi sistemi gestionali o nuovi metodi di pagamento dei premi direttamente all'impresa, di relegarci nel ruolo di meri venditori porta a porta o di confonderci in tanti indifferenziati point of sale della compagnia senza più controllo e un domani neppure diritto sul portafoglio clienti. Abbiamo incalzato a volte con veemenza quei Presidenti di gruppo aziendale che sono apparsi più titubanti o che nonostante i proclami belligeranti nei fatti hanno concesso ampi spazi di manovra alle compagnie ripiegando su negoziazioni a ribasso. Non lo abbiamo certo fatto con il fine di svilirne il ruolo che riconosciamo essenziale in questa epoca più che in passato. Tuttavia dobbiamo sottolineare come la mancanza della necessaria coerenza e determinazione tra i vertici di alcuni gruppi agenti abbia permesso a talune compagnie di depredare gli agenti dei diritti faticosamente ottenuti grazie a decenni di battaglie sindacali. La posizione assunta da alcuni di essi, ad esempio sul fonage, ha addirittura rischiato di arrecare pesanti danni al fonage stesso e all'intera categoria. A proposito di negoziazione tra genti e imprese, come ho avuto modo di rappresentarvi al congresso di Bari, da tempo stiamo lavorando allo studio di possibili ipotesi di rinnovo dell'ANA 2003. L'idea sarebbe quella di non stravolgere completamente l'impianto normativo attuale dell'accordo, ma di apportarvi qualche doveroso opportuno aggiustamento ed ammodernamento. Come sapete, la commissione ANASNA, che ha lavorato a questo progetto, era composta dai colleghi Agliata, Boccitto, Rinaldi, Rossi, con la regia del vicepresidente nazionale uscente Corrado Di Marino, con la partecipazione dell'avvocato Gianluigi Marandrino e del dottor Domenico Fumagalli, nonché del vicepresidente del comitato GA a Salvatore Palma e dal presidente del comitato GA da Ariopiana. Riterrei opportuno suggerire alla squadra dirigente entrante, fin da ora, di ricostituire la stessa commissione coinvolgendo le medesime persone che, per quanto ho potuto constatare, hanno prodotto ottimi risultati. Grazie. 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 Grazie.